Capo Molla si è trovato a dover gestire un territorio che non aveva mai avuto un'affermazione di esistenza di una cosca d'Indrangheta. E guardate che è veramente difficile, perché la cosca d'Indrangheta o la becchia all'inizio, quando innesca la carica di intimidazione, la carica di intimidazione si costruisce con la violenza, con la soprafazione, con la convinzione della gente che ha a che fare con uno dranghetista. Per cui quando c'è una cosca, come nel caso di Soverato, che è attiva da tanti anni e quindi c'è già una condizione di omertà che riduce al minimo le violenze, le minacce, che non c'è più bisogno di profondere, ecco la difficoltà. Chiaramente siamo stati, per così dire, tragicamente aiutati da questa contesa armata che si è trascinata per più di tre anni con una serie di omicidi efferati, vi ricordate l'omicidio Rombolà commesso sulla spiaggia? Questo vi fa capire la drammaticità del fenomeno e anche quanto ci sia bisogno anche di una certa stampa che faccia capire la drammaticità del problema, perché ancora oggi io non so quanti siano convinti dell'importanza, dell'esigenza di sradicare questo fenomeno, che è a rigurgiti dappertutto, perché quando si dimostra, come nel caso del dottore Capomolla, che è riuscito in questa, che è una ipotesi veramente complicata, a dimostrare che l'omicidio di Novella commesso a Milano è legato da un sottilfi rouge con gli omicidi commessi a Soverato, perché bisognava stroncare una pretesa di emancipazione dai gallaci. E allora vi rendete conto di quanto è importante anche il ruolo della stampa per aiutarci a fare capire che abbiamo bisogno di mezzi, che abbiamo bisogno di uomini, perché questa sta diventando un'emergenza nazionale.